Il podcast della seconda serata per parlare del Gran Premio di Jeddah, secondo appuntamento sessuale del Mondiale di Formula 1, secondo appuntamento arabo consecutivo dopo quello di apertura del Bahrain in una gara che va detto è durata soltanto 25 giri su 50 perché francamente dopo il sorpasso che Alonso ha subito da Verstappen la gara effettivamente si è congelata e non è successo praticamente niente. Tutto concentrato nella prima metà di corsa con una Red Bull ancora una volta dominante come in Bahrain, una Storm Martin sempre più sorprendente come seconda forza senza se e senza ma di questo Mondiale e tutte le altre scudorie che francamente arrancano. In una qualificazione però che ha comunque dato degli spunti interessanti abbiamo comunque modo di approfondire alcuni discorsi perché problemi di affidabilità hanno condannato il leader del Mondiale Max Verstappen a partire indietro e quindi ci auspicava la rimonta che effettivamente è arrivata con la seconda posizione finale con partenza dalla quindicesima casella. Il discorso invece a parte va fatto per Sergio Perez perché dalle immagini il messicano è partito in pole position e ha fatto praticamente tutto quello che c'era da fare tranne il giro veloce ma comunque Sergio Perez sarà il netto vincitore di questa gara. In realtà la Red Bull è ancora una volta dominante in tutto e per tutto senza se e senza ma è la primissima forza di questo Mondiale e di un'altra categoria rispetto a tutte le altre scuderie del Circus nelle prime due competizioni. La Red Bull ricordiamo parte da una base molto solida quella di aver vinto 17 gare nelle 22 dello scorso campionato e l'andazzo per questa storia 2023 è sempre esattamente lo stesso con appunto la scuderia anglo-austriaca assolutamente sugli scudi con tutte le altre squadre che arrancano. Nel nostro giro vince Sergio Perez meritatamente perché la pole position è veramente considerevole parliamo di mezzo secondo rifilato a quel Fernando Alonso che sarà tanto l'oggetto del contendere di questa gara l'avete capito anche già dal titolo del video perché Alonso per questa posizione di partenza che vediamo nell'immagine viene penalizzato di 5 secondi per appunto posizionamento scorretto penalizzazione che peraltro doveva essere scontata in regime di pit stop e qui rimaniamo in casa Stone Martin perché qui succede l'irreparabile Lance Stroll si ritira per un problema tecnico gli si fonde il motore sostanzialmente Stroll che in questo caso fa una manovra molto giusta e azzeccata va di fatto nella via di fuga in modo da agevolare il più possibile le operazioni di sicurezza e qui entra in gioco la direzione della gara che come spesso succede ne combina più di Carlo in Francia e fa due macroscopici errori. Il primo è quello di chiamare una safety car fisica in questa situazione Stroll come vedete è praticamente fuori pista è in sicurezza non c'è la scelta di far intervenire dei mezzi straordinari in mezzo alla pista o di ripulire detriti sulla pista di Jedda assolutamente no. Fatto sta che la direzione corse chiama questa safety car e di conseguenza tantissimi piloti rientrano piloti tra cui Fernando Alonso che sconta i 5 secondi di penalizzazione in questo regime di pit stop e quindi si va avanti. Si va avanti arriva la ripartenza con Perez che dà veramente i secondi alla gente compreso lo stesso Fernando Alonso che rientra in seconda posizione alla fine arriva la rimonta anche di Verstappen che arriva praticamente alla seconda posizione e alla fine della gara si conclude comunque con il legittimo vincitore ovvero appunto Sergio Perez che vince la sua quinta gara in carriera prima di questa stagione e di fatto è leader del mondiale o comunque è nelle estreme vicinanze ma sappiamo già che in questa circostanza la Red Bull sarà letteralmente la macchina. dominante un po' come l'era Mercedes quando c'erano Rosberg e Hamilton tutto bellissimo alla fine il podio si completa appunto con l'ennesima doppietta Red Bull delle ultime due stagioni con il podio che apparentemente sembra quello del Bahrain quindi con Alonso terzo peraltro Alonso avrebbe ricoperto la ricorrenza del centesimo podio in carriera ma appunto questa immagine è platonica sotto il collezionale apposta perché qui arriva l'altra mega cappellata mostruosa della direzione corse perché per il fatto di non aver scontato correttamente la penalizzazione ad Alonso viene combinata un'ulteriore penalità di 10 secondi stesso precedente che capitò a Ocon nello stesso esatto ordine di Alonso perché anche Ocon in Bahrain fu penalizzato prima di 5 secondi e poi di ulteriori 10 per aver mancato la penalità e qui è la stessa cosa. Il regolamento tecnicamente dice che se la safety car è già dentro in pista e viene scontata una penalizzazione allora quella penalizzazione non è valida non conta ai fini del tempo finale evidentemente Alonso ha scontato la penalizzazione in questo regime e di conseguenza la direzione corse ha compensato bene di dargli la penalizzazione in più. Quello che non mi sta bene è che venga fatto tutto dopo la cerimonia del podio calcoliamo che Stroll si è ritirato al giro 17 la safety car entra al giro 18 Stroll si ferma scusatemi Alonso si ferma al giro 18 e di conseguenza mancano ben 32 giri al termine della gara. È incredibile come la direzione corse non abbia redarguito Alonso se aveva riscontrato già la penalizzazione entro la bandiera a scacchi e abbia fatto una cerimonia del podio finta per poi dare il podio comunque a un pilota meritevole come George Russell. Annetto che comunque anche oggi tutti quelli che non si chiamano Red Bull hanno preso gli eoni di distacco sono francamente dispiaciuto per Fernando Alonso perché oramai è la persona il pilota che molti tifano e simpatizzano perché comunque il ralleone ha 42 anni è un pilota comunque sull'età ma che comunque rimane sempre ancora oggi nei primi 5 del circuito fa molto rammarico vedere un podio celebrato e poi tolto in una maniera abbastanza invereconda. Da fatto sta che il podio viene completato da George Russell che di fatto appunto sale quarto in classifica generale a 6 lunghezze da quel Fernando Alonso che aveva fatto due volte terzo con la Stone Martin seconda forza del mondiale senza se e senza ma ha vinto Sergio Perez la gara di Jedda non è leader del mondiale come ho veramente detto prima perché il giro veloce se le prende Verstappen e quindi l'olandese in vantaggio di un punto rispetto al messicano. Il messicano celebra comunque la seguente vittoria in stagione e per lui suona il suono nazionale che per la Conacon è bellissimo musicalmente. Verstappen è secondo partendo dalla quindicesima posizione una rimonta che francamente era molto scontata vista la dominanza incredibile di questa Red Bull. Terzo è George Russell che in teoria sarebbe arrivato quarto ha tagliato il traguardo a 5 secondi in pista da Fernando Alonso. Il problema è che appunto Alonso ha ricevuto 10 secondi di penalità in più rispetto ai 5 già scontati nei box. Se fossero stati 5 secondi il podio sarebbe stato esattamente lo stesso della gara del Bahrain con due vetture soprattutto le Red Bull e un Aston Martin seconda forza in pista con un Alonso veramente in stato di grazia. Alonso per me lo dico già è il driver of the day a mani basse perché ripeto ha 42 anni con una macchina che non partiva con le più grandi ambizioni del Circus. Anzi la Aston Martin era sempre data come quella scuderia che potenzialmente poteva crescere ma che non ha mai raccolto quello che doveva raccogliere. Alla fine in questa stagione anche con l'aiuto di Alonso effettivamente i risultati stanno arrivando e quindi il podio era più che meritato in pista. La direzione corse l'ha pensata diversamente io non sono d'accordo con non la penalità ma con l'aver detto di fatto a cerimonia conclusa che la penalità sarebbe arrivata. È un metodo che a me non piace le penalità vanno date prima della bandiera a scacchi e non posta a meno che non siano casi eclatanti come magari incidenti controversi particolari. Qui non c'erano cose complicatissime da risolvere si poteva dare effettivamente un ulteriore avvertimento da Alonso nei 50 giri di gara in un dopo con appunto cerimonia assolutamente platonica. Gli altri piazzamenti invece cosa certificano? Certificano che di fatto i valori sono già ben definiti alla seconda gara perché le due Red Bull sono davanti a tutti. Le Aston Martin sono la seconda macchina in pista senza se e senza ma terza potremmo metterci la Mercedes e oggi qui a Jedda le Ferrari erano assolutamente indietro. L'ordine di classifica di fatto rispecchia questa classifica, questa gradatoria meglio perché Hamilton è quinto con una gara comunque abbastanza anonima ma comunque è una conferma del prezzamento del Bahrain. Il sesto classificato è Carlos Sainz che fa la gara del Gambero, partiva quarto ed è finito sesto ma è una Ferrari assolutamente inerme. Fa quello che può Charles Leclerc che finisce settimo con partenza dalla dodicesima posizione. Ricordiamo però che Leclerc fu penalizzato di 10 posizioni per aver cambiato il motore già alla prima gara alla faccia del grande progetto 2023 della Ferrari. In ottava posizione abbiamo invece Esteban Ocon con appunto la migliore delle due Alpine. Appena dietro Pierre Gasly che comunque in costante si conferma evidentemente alla nona posizione in costanza volevo dire. In costante sembra un termine fraintendibile chiude la zona punti K-Mag che comunque fa quello che può con una Haas che è selottata comunque le posizioni della zona punti con l'Alfa Tauri, con la Williams. La sto giro la spunta il danese dopo che invece nella gara passente la spunta Alexander Albon. Sul capitolo Ferrari cosa possiamo dire? Che evidentemente è una macchina che deve ancora crescere, è un progetto che deve sbocciare o che comunque deve migliorare tantissimo. Perché la Ferrari da seconda macchina del mondiale per tutta la stagione scorsa, a tratti la prima come nella prima parte, a forse terza nelle ultime due gare si trovi a essere di fatto la quarta macchina. Di fatto perché oggi Agedda era la quarta macchina fa abbastanza rabbrividire su questo concetto perché la Ferrari dopo che Leclerc qui inquadrato si è schiantato a muro l'anno scorso, le Castellet, la Ferrari ha di fatto abbandonato il progetto del 2022 per concentrarsi sul 2023. E se i risultati sono questi, insomma, meno male che li sono concentrati dall'anno scorso sul progetto di quest'anno. È evidente che ci sarà tanto da lavorare, è evidente però che la Ferrari non è la più grande delusione in realtà di questa gara dell'Arabia Saudita. Le delusioni principali sono due, una da tifoso e l'altra da, diciamo, analista di Formula 1 tra molte ferie di virgolette, raccolando che questo di fatto non è il mio lavoro. La delusione da tifoso è ovviamente i piloti che sono in fondo alla classifica generale del Mondiale Piloti perché Oscar Piastri e Lando Norris ancora una volta finiscono terzultimo e penultimo in pista. Una McLaren veramente disastrosa, un progetto fallimentare. Andrea Stella ha comunque ricordato che gli aggiornamenti che dovrebbero far rendere la macchina presentabile, almeno io spero da tifoso, dovrebbero arrivare da Imola. Il problema è che Imola si correrà praticamente a maggio, quindi ci saranno delle sofferenze inenarrabili da qui fino alle gare europee. Qualche aggiornamento minore in realtà dovrebbe arrivare a Baku, quindi di fatto a fine aprile, ma comunque è un mese di sofferenza per me, per vedere queste gare qui. La tifoso McLaren vedremo se effettivamente le predizioni di Andrea Stella saranno corrette, ma vedere una McLaren che lotta di fatto con Alfa Tauri, Alfa Romeo e che puntualmente viene battuta da queste formazioni, ma perché la macchina fa schifo della McLaren, è un progetto letteralmente fallimentare, mi fa un po' specie calcolando che l'anno scorso a Imola è vero che non ci furono stagioni incredibili, ma un po' di almeno lo facemmo e fu a Imola. Peraltro ero dal vivo a vederlo e fa abbastanza specie che una macchina comunque titolata sia stata così altalenante dall'anno scorso a quest'anno. La delusione invece del giorno come pilota è questo, Nick DeVries, che è un pilota che a me piace veramente un sacco, ha ancora una volta fatto una gara anonima, è vero che l'Alfa Tauri non è una macchina così tanto competitiva, ma il compagno di squadra di Nick DeVries, ovvero Yuki Tsunoda, che sulla carta è inferiore, almeno a DeVries, gli è finito davanti anche stavolta e DeVries, che è un pilota di più talento, dovrebbe secondo me battere tutte le volte Tsunoda, che ripeto non è uno dei miei piloti preferiti, però comunque l'Alfa Tauri è una macchina che sta crescendo in qualche modo. Certo, fare meglio dell'anno scorso era molto facile, certo che DeVries vederlo due volte a quattro di gioco dopo la grande prestazione di Monza dello scorso anno con la Williams, con una macchina superiore, fa abbastanza spavento anche qui. Comunque ci sarà tempo e modo per vedere evidentemente dei miglioramenti qui e lì, in queste prime due gare del Medio Oriente abbiamo visto che i valori sono più o meno confermati, molti piazzamenti più o meno sono gli stessi, dalla gara del Bahrain, vedi appunto per esempio i due nonni di Pierre Gasly, i due quinti di Emmett, i due dicesimi di Tsunoda e così via, anche nei bassi fondi della classifica è uguale, vedremo se questi tanto agognati aggiornamenti delle scuderie del midfield potranno mettere un po' più di pepe, almeno per la zona punti, perché le gare, se sono indirizzate così, sono divertenti per il terzo posto, come un po' l'era Mercedes con Rosberg ed Hamilton. Il prossimo appuntamento per quanto riguarda la Formula 1 sarà in Australia, weekend del primo e due aprile, dove correrà anche la Formula 2, che come la Formula 1 ha avuto il suo weekend numero 2 del Mondiale in Arabia Saudita e ci sarà anche la Formula 3 invece ad Albert Park. La classifica che doveva evidentemente stravolgersi dopo le qualificazioni del venerdì di Formula 2 invece è di fatto un incredibile casino, è una tonnara pazzesca, alla fine vincono uomini non di classifica e quindi la classifica è tanto più corta. La gara a sprint la vince il pilota del Team Damsa, Yumi Waza, il giapponese che comunque vince la sua terza gara in carriera in Formula 2, e per lui suona il Kimi Gayo in seconda posizione abbiamo Victor Martins che è uno specialista evidentemente delle sprint race, perché ha fatto terzo anche in Bahrain e Martins è arrivato qui non solo da campione regnante di Formula 3, ma anche da Pullman della gara di Jedda, Pullman che però non verrà concretizzato evidentemente nella future race per la sua disperazione e Martins poteva ambire a posizioni di classifica molto più importanti con assolutamente una vittoria in future race, ma un suo errore lo condanna al ritiro di fatto. E terzo è per due volte Ihan Daruvala, pilota del Team MP Motorsport che è il team campione in carica, ricordiamo che aveva Drugovic l'anno scorso e quest'anno invece si avvale delle prestazioni sportive di Daruvala e Hauger, quindi due piloti molto molto interessanti. Il podio invece della future race lo completano Jack Duan, primo podio stagionale per il pilota della Renault, junior team dell'Alpine e corre nel team Univirtuosi e torna alla vittoria Frederick Vesti, seconda vittoria in Formula 2 per il pilota danese che rimane come junior team della Mercedes ma ha cambiato squadra, è un team prema e fa una vittoria molto interessante, sfrutta i veri ritiri di Berman e di Martins, ma comunque la vittoria è molto importante per il morale del danese che va direttamente a meno 5 in classifica e suona il suono nazionale per lui, Der Erichland l'inno danese che di fatto vuol dire c'è una terra felice. In tutto questo l'uomo più pronosticato per vincere il titolo del mondo Formula 2, ovvero Theo Pursher, fa un poderoso zero, si ritira appunto in gara sprint con un incidente folle su Berman, errore in staccata clamoroso di Pursher che centra il povero petto in crisi del Ferrari junior team e poi fa una gara anonima in colore in gara 2. Il leader in tutto questo è il venerabile maestro Ralf Bulschung che fa quarto in sprint race, sarà un quarto posto fondamentale perché con il diciannovesimo posto in gara Fitcher su 22 piloti evidentemente si ritrova leader del mondiale un po' per sbaglio mi verrebbe da dire però attenzione al pilota svizzero specialista delle gare corte e ad Albert Park ci sarà occasione per allungare sui diretti avversari anche se sarà un po' platonico dire questo concetto perché come vedete la classifica di Formula 2 è letteralmente una tonnara ed è già bellissimo così. Questo dunque è il Racing Podcast per quanto riguarda le categorie dei motori a Jedda quindi Formula 1 e Formula 2 e una piccola parentesi vi lascio con la classifica della Formula 1 con due Red Bull una categoria soprattutto con Verstappen leader del mondiale con 44 punti fatemi sapere cosa ne pensate delle vostre scuderie della gara di Jedda che in persona avete avuto il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo in un prossimo video